Non capisco Non capisco 2019 Ancora il prossimo passaggio Pintanza Ciajusco, cimierini e perdita numero 50. Gminna numero 50. secondo passo di filiglio per benvenuto ben vicino Intanto c'è la condizione di tempo a condizioni del terreno da ricevuto, meno otto al passato Grazie a tutti, grazie a tutti 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 Grazie a tutti